Ecco la Virtus Castelfrontano, la rappresentanza della scuola calcio che sfila per le vie storiche dell'Aquila. Ecco accompagnati dai genitori i ragazzi della nostra scuola calcio. Le vie del centro storico dell'Aquila, sottominato dal terremoto del 2009, il centro storico sta rivivendo una giornata di allegria con il transito delle varie società, scuole calcio. Con la loro rappresentativa i ragazzi. Da Collemaggio adesso ci portiamo al fattore per la cerimonia finale. Guardate il lungo corteo.